Presso l'Università della Calabria, un detenuto del carcere di Paola ha conseguito la laurea in scienza dell'educazione. Per l'occasione, il rettore, il professore Gino Milo Crisci, ha inteso ricordare come l'Ateneo è sempre stato sensibile ai temi sociali. Perché siamo convinti, ha dichiarato Crisci, che la cultura rappresenti per i detenuti una grande opportunità di riscatto e di acquisizione di responsabilità e di autonomia. Proprio per garantire ai soggetti in stato di detenzione l'effettiva fruibilità del diritto allo studio universitario, ha proseguito il rettore, ho voluto costituire qualche mese fa un comitato scientifico che si occupi della costituzione di un polo universitario penitenziario e che accompagni i detenuti che intendono seguire i nostri corsi di laurea, negli iter che li porta dall'iscrizione fino alla laurea. Tutto naturalmente in accordo con i direttori degli istituti penitenziari del sistema carcerario calabrese e lucano. Fanno parte del comitato i professori Pietro Fantozzi, che è anche mio delegato in materia, Ciro Tarantino, Giuliana Mocchi e Franca Garneffa. Grazie al loro lavoro, ha sottolineato ancora il rettore, a quello dei tanti volontari che ogni giorno si spendono per questa causa, già nello scorso mese di giugno abbiamo avuto i primi due detenuti laureati, entrambi reclusi presso la casa di reclusione di Rossano. Invece con il conseguimento di quest'altra laurea, continua Crisci, un altro studente, ha potuto raggiungere questo importante obiettivo ribaltando quella che è l'idea di base del percorso universitario tradizionale. Non è l'allievo che si presenta nel luogo nei tempi definiti dall'istituzione universitaria, bensì è l'università che si rende disponibile a entrare in contatto con lo studente nei tempi e luoghi stabiliti dall'amministrazione penitenziaria. Un obiettivo non facile da raggiungere, ma di alta funzione sociale, per il quale il professor Fantozzi si sta impegnando con grande determinazione, tanto che ha intenzione nei prossimi mesi di visitare tutte le carceri calabresi per promuovere la rete di collaborazione necessaria e far nascere il polo universitario penitenziario dell'Università della Calabria.